Ecco i focus relativi all'intervista con Roberto Pastura. Ho selezionato della sua bella chiacchierata tre momenti secondo me molto importanti. Il primo riguardante il lavoro in team, il secondo relativo alla gestione del tempo e il terzo relativo alla carriera professionale delle persone. Noi siamo tre soci totalmente, poi tu ci conosci, uno totalmente diverso dall'altro, terra, fuoco e aria, quindi abbiamo tre modi di vedere le cose diverse, tre modi di farle diverse, però poi c'è un'alchimia che alla fine genera una sintesi, una sintesi che tenga conto un po' delle tre visioni. Lavoro in team, Roberto racconta della sua importante esperienza ancora attiva assolutamente con i suoi due soci Riccardo Foti e Daniele Pace, in cui praticamente sostiene che è importantissimo avere dei soci estremamente anche diversi l'un dall'altro, ma che poi hanno in testa una meta, un obiettivo comune e quindi questo vi ha portati a un discreto successo in campo imprenditoriale. Che cosa significa questo? Beh è vero, oggi le imprese sono degli ingranaggi, è inutile. Il famoso adagio chi fa da sé fa per tre o l'imprenditore che è factotum, insomma, per poi factpocum, ormai non hanno più molta ragione ad esistere. Per cui l'importanza del lavoro in team è fondamentale. Questo che cosa comporta? Tanti discorsi di cui noi abbiamo già accennato riguardante la capacità di avere rapporti con gli altri, le relazioni, l'empatia, la capacità di ascolto. Cresce la nostra capacità professionale, non ci fa essere più dei soggetti a sé stanti, ma abbiamo un senso quando siamo all'interno di un team. Mutuando un po' questo esempio anche dal discorso dello sport, oggi possiamo parlare realmente di attività individuali, di sport individuali? Pensiamo alle recenti Olimpiadi di Tokyo che ci hanno regalato forse la medaglia d'oro più rappresentativa dell'Olimpiadi, i 100 metri piani. Il nostro corridore si è misurato in una attività individuale, ma dietro a un team? Certo che sì. Possiamo parlare veramente di attività individuale? Certo che no. E attenzione, non parliamo solo di aspetti tecnici. Pensate al ruolo della famiglia, della mamma, del papà, della fidanzata, della moglie. Che ruolo hanno queste persone? La loro capacità di essere invisibili per aiutare la persona nella concentrazione, nello stato d'animo e quant'altro che poi porta al risultato fidale, la medaglia d'oro. Oggi è quanto mai fondamentale avere la capacità di lavorare in team. Il messaggio è questo. Che non sia solo una scritta su un curriculum, ho la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di lavorare in team, so fare team working, so che cos'è team building e quant'altro, ma che ci sia la reale capacità, ma soprattutto la reale volontà di dividere con gli altri percorsi che poi portino al successo comune. Invece il Roberto Pastura quindi che è imprenditore e che deve affrontare queste sue settimane di lavoro full, hai un metodo, usi il cartaceo, usi l'agenda elettronica, mixi? Diciamo che l'agenda elettronica è diventata fondamentale, perché col cartaceo è veramente scomodo, però comunque utilizzo dei fogli con delle griglie e cerco di ricavarmi degli spazi che per me sono fondamentali di nutrimento, che banalmente possono essere anche dei momenti in cui ho deciso di vedere quel video interessante dove parla quella persona che mi piace ascoltarla, ma che magari non c'entra niente con la formazione. Un altro elemento fondamentale nell'intervista di Roberto Pastura è la gestione del tempo. Importantissimo, senza gestione del tempo non possiamo pensare di ottenere alcun che alcun risultato. Nel mio libro Quanto Basta ho dedicato un intero capitolo, il quarto, all'analisi di questa gestione, fermandomi molto e lavorando tanto su quella che io reputo uno strumento fondamentale, la matrice di Asenauer, ho conosciuto anche come matrice di Covi, dal libro First Things First, le prime cose a primo posto di Stephen Covi, che è stato un grandissimo scrittore e interprete della managerialità. Lui divide le attività in urgenti, non urgenti, importanti e non importanti, e in questi quattro quadranti della matrice ci insegna a gestire il tempo in modo corretto, soprattutto a crearsi una scala di priorità. Come si gestisce il tempo? Con due strumenti fondamentali, il calendario e l'orologio. Successivamente una pianificazione, che è la parte progettuale di ciò che noi vogliamo fare, ci permette di programmare la nostra pianificazione, allocando le cose da fare nell'agenda e con degli orari. Roberto, ad esempio, utilizza il sistema forse più comune, che trovo estremamente efficace per la maggior parte di chi fa un'attività da microimpresa o anche commerciante o quant'altro, studi professionali, quello della settimana. La settimana è composta da 168 ore e noi dobbiamo essere bravi da lunedì alla domenica a inserirci tutto, ma proprio veramente tutto, compreso le attività piacevoli, gli hobby, lo stare con la famiglia, quindi non solo lavorativamente parlando. Se ci pensiamo nella vita media di una persona intorno agli 80 anni, 81 anni per gli uomini, 85 per le donne, secondo un dato di gennaio 2020, beh, circa la metà del tempo viene destinato a tutte le attività rutinarie e non viene compreso il lavoro, il tempo da destinare a noi, quello veramente interessante, qualitativo, è pochissimo. Senza una corretta gestione dell'agenda non riusciremo a cavarne nulla e quindi vivremo in costante stress, di mancanza di tempo, rincorsa, questa perenne senso di urgenza che ci travolge. Studiate gestione del tempo, fondamentale. L'imprenditore prima parte con un livello di capacità specifica, quindi verticale, oggi abbiamo una capacità a T, quindi comunque sai quello che devi fare, ma hai anche a cappello una serie di visioni, competenze e capacità che sono trasversali. Ultimo elemento interessante della chiacchierata con Roberto, proprio nella chiusura, no? Prima dei saluti, è quando Roberto ci racconta dei profili AI o i profili AT. Oggi ci sono diverse situazioni, molto particolari. La nostra storia ci ha portato ad essere elementi attivi nel mondo del lavoro. Beh, una volta erano ricercati i profili AI, i profili verticali, come la lettera. A che cosa servivano? Estremamente specializzati, andavano molto di moda in voga negli anni 90 soprattutto. Questa cosa si è un po' persa, perché tutte quelle che in gergo vengono chiamate le soft skill, cioè le abilità leggere, sono in realtà quelle fondamentali oggi perché? Perché il mondo è cambiato, perché la società è fluida, la società è assolutamente turbolenta ed è difficile dominarla. Questo ragionamento che coglie tanti ragazzi, gli sembra di essere un po' perdi tempo, dire ho fatto tante esperienze, tanti studi, l'uno diverso dall'altro, ma mi sento incompiuto. Beh, non è una cattiva notizia, perché i profili AT passano da sinistra a destra in esperienze e situazioni completamente diverse che solo in un primo momento possano non sembrare utili. Quando invece gli anni passeranno, magari se siamo riusciti a focalizzarci poi in qualcosa di più grande, tutte queste nostre esperienze torneranno estremamente utili. I profili AT sono estremamente efficaci. Il sottoscritto che vi parla è passato dall'essere un maresciallo dei carabinieri a un imprenditore, studiando dalla medicina naturale, delle infarinature, ci mancherebbe, non sono né un medico né un farmacista, ma quanto basta, come il mio titolo del mio libro, per capirne, per ciò che mi serve per le mie attività, ad essere un informatore, un docente, e altri sì, uno scrittore in ultima analisi. E questo è dato proprio della mia costruzione, della mia preparazione AT. Ciò che veniva visto, diciamo, non proprio di buon occhio negli anni 80-90, dagli anni 2000, invece, ha completamente cambiato aspetto. Quindi fatevi esperienze possibili, saltate anche da un mondo all'altro, formatevi in tante situazioni diverse e vedete che otterrete sicuramente dei risultati molto interessanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.